una collezione molto beat esattamente perché proseguiamo su questa linea d'onda che è un po la tendenza del momento con dei richiami un po anni settanta il momento della rivoluzione della moda e della stessa cosa che sta accadendo oggi nello stesso tempo due temi principali la field jacket che è il capospalla iconico di ferri visitato in diecimila chiavi di lettura e il pesli che è il trait d'union di tutta la collezione quello che ci piace in questo momento della moda è che la libertà di poter vestire una signora con una certa età è una ragazza molto più giovane ma nell'una nell'altra vogliono sentirsi vecchia vogliono sentirsi uguali tutte e due abbiamo dei capi e ricamatissimi il capotto canonico classico di fei rivisitato in una chiave molto beat con questi ricami pesli in oro ma ci sono anche per esempio delle gonne in vual di cotone stampate con degli interventi di pizzo e di camoscio sovrapposto Ciao, mi chiamo Malaika Fert e siamo in backstage di Fai Questa è la baga che ho guardato, bellissima, vedete? Abbiamo questi bellissimi patti e patti, è semplice ma è chic al stesso tempo Abbiamo tutti i colori, sono molto naturali e più blu, bianca, un po' di grigio in quindi si fa davvero bello. Mi piace tutte le colori, è molto bello, c'è molto bianco, che è molto bello per l'esmero. E mi piace la short skirt e la jacket, quindi ha una collezione molto bella. La make-up è molto rawa, abbiamo fatto una pelle molto naturale, con molto brillante, solo per capire l'esmero. E abbiamo fatto un'esmero, non classico e non rock, ma in il medio, perché le vestigio sono romantico in un modo, con colori, molto bellissime, quindi abbiamo bisogno di ridurre un po' di questo stile, e migliorare a una cosa più rock, ma ancora classico. La stile di Faye di oggi è un po' di bici, un po' di bici, un po' di rock-n'roll, ma ancora molto chic, quindi la parte della nella nella nella, la parte della per le bici è una parte delle donne, Grazie a tutti per aver guardato il video.